Beppe Severnini, in caso di elezioni chi rischia di sparire oggi dalla scena politica italiana? Tutti quanti, lo dicevo prima, ma veramente quasi tutti, a salvo Salvini, che mi sembra equipaggiato, dopo aver sì, cioè veramente non se l'aspettava neanche lui un regalo così grosso, cioè questa discordia fra i governanti da agosto ad oggi, e Giorgia Meloni, che mi sembra l'onda sia questa. Credo che per Berlusconi il periodo, la vita politica sia finita, accetterà qualche cosa probabilmente, ma non credo possa più segnare il nuovo centrodestra, credo che a sinistra ci saranno gli avversari, ci sarà un'opposizione di centrosinistra, credo che il Movimento 5 Stelle sarà molto ridimensionato, e ci sarà qualcun altro, non credo che vedremo ancora Renzi e Zingaretti, per essere chiari. Se dovesse accadere. E Conte? E Conte credo che anche per lui sia la fine di una stagione, io non posso, in Italia può succedere di tutto, però mi sembra se hai due possibilità, prima di tutto fai il professore a Firenze, di diritto, vieni portato al governo, impari strada facendo, questo glielo abbiamo riconosciuto tutti, però per due volte ti va male, io non credo, tutto è possibile, però voglio dire, io potrei anche giocare nell'Inter, ma è improbabile.